ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un episodio in esterna eccoci qua ragazzi siamo a viareggio perché andiamo a trovare l'amico giacomo titolare della gioielleria pasquale domenici perché andiamo a trovare lui mica nel negozio no andiamo nel negozio perché ci sono delle novità c'è un simpatico nuovo marchio da presentare e noi siamo curiosi un marchio che io ho già recensito sul canale ma ho solamente recensito i modelli quelli più economici almeno in questo caso potrò mettere le mani su quelli più costosi di fascia alta e sono incuriosito da questi modelli qua infatti erano già buoni quelli di fascia bassa guardiamo quelli di fascia alta come saranno poi ci sono le solite novità andremo un po in giro un po in qua un po in là vedere i modelli le prove al polso quelle cose lì ma con noi c'è anche no l'orologio del giorno prima l'amico piero il tuo orologio del giorno no niente l'orologio del giorno quando c'è l'amico piero bisogna inquadrarlo sei scemo eccolo lì cosa c'abbiamo piero posizione davide cecchini e che orologio sarà questo qua è un tagoyer pilot bello col calibro praticamente questo qua ci ha eh sì ma l'hai spiegato l'altro giorno il calibro a cipolla come gli hai detto il calibro cipolla ragazzi no al sandwich panino si panino c'è l'eta 2892 con il modulo de bois de pra è simpatico lo si vede anche dalla vedi che la corona è sfalsata rispetto ai pulsanti sono due modulino sopra l'altro capito eh sì ma l'avevi spiegato invece io che orologio c'è il bright ring chronomat gmt da 40 mm guardate come lucida con il suo bracciale jubilee no bracciale va bene dai già meno male mi sono salvato chiaramente te piero sai qual è il marchio nuovo no e no certo che no non me l'hai voluto dire non te l'ho voluto dire apposta tu te l'ho già detto ma hai detto e io me lo so già dimenticato ma no perché per te un marchio vale l'altro sì però se è carino magari ne compro uno bravo cosa facciamo adesso il caffè come sempre dalla nostra amica da simona bravo buongiorno gli uomini più belli che sono arrivati in bersiglia cosa prendiamo un po di fantasia un po di fantasia due caffè un ginseng un ginseng eccolo è arrivato anche lui cosa vuoi grazie ciao eccoci qua allora ragazzi siamo qua dentro la barracchetta degli orologi con l'amico piero che tiene in mano il gelato e noi ci approfondiamo per vedere un pochino l'amico giacomo eccolo lì l'amico giacomo che ci saluta che naturalmente il titolare di questa bellissima baracchetta baracchetta e perché perché abbiamo finalmente un marchetto nuovo da presentare per da fare divertire i nostri amici che marchio è giacomo l'aco l'aco è una casa tedesca che è storica è storica perché fa parte di quelle cinque case che nella seconda guerra mondiale non facevano altro che rifornire la luftwaffe con i famosi flieger erano i wc allanghe unzone vempe laco e stoa a me ne sono ricordo di tutti quindi è famosa laco e nota applicato per avere due livelli di prodotto uno base entry level con il miota della serie 8000 tra cui tra i quali ho anche recensito diversi laco da 340 euro quella è la cifra quello invece di livello superiore non li ho mai toccati con mano perché andavano comprati e spendere il millino per fare la recensione poi darlo indietro cosa ci faccio non posso invece qua abbiamo la possibilità di vederlo questo cosa sarebbe quello lì è praticamente un miota abbiamo qui qualche versione per chi ovviamente se entri price del marchio sono praticamente i flieger type a e type b no vedete quadrante differente questo qua è quello più iconico quello che veniva veramente ma loro li fanno anche mi sembra anche senza la scritta l'aco sopra quadrante un quadrante sterile te risultate non mi ricordo non mi risulta magari su richiesta è possibile però sì perché se guardiamo questo che è già leggermente più costoso non riporta al marchio sì che direi che quello che stai dicendo potrebbe essere perché se te vai sul loro sito web ora questa cosa qua detta così potrebbe risultare anche una lama a doppio taglio perché loro personalizzano veramente tanto gli orologi la possibilità di mettere cose togliere cose questo qua è quello di livello superiore quindi hanno il fondello chiuso ecco qua praticamente questo qua ecco è il livello è il livello elevato 970 intorno ai 1000 non mi sbagliavo siamo intorno ai 1000 euro per questi orologi flieger con di livello superiore con il calibro superiore a carica manuale o carica automatica allora questo è a carica manuale qui ne abbiamo un altro a carica manuale col fondello a vista eccolo qua vedi ecco una delle personalizzazioni che possono fare proprio il fondello chiuso oa vista se se vuoi scegliere si può scegliere eccolo qua e poi vediamo che il calibro manuale anche ben decorato per quello che costa un pochino di più made in germany 10 atmosfere per un pilot sono anche tante vede vetro zaffero e il calibro manuale si tra l'altro si può scegliere anche la il grado di rifinitura della meccano media un'altra personalizzazione che si può fare sì sì ci sono diverse ora logicamente il loro sito che è un sito dove vengono solo questo prodotto c'è tutta una serie di icone che possono essere spuntate ovviamente viene adeguato il prezzo in base a come si vuole l'orologio per quanto riguarda invece il nostro sito a breve saranno tutta la collezione sarà caricata però se volete delle variazioni vi chiediamo di chiedercelo perché diventa difficile si bisogna per quanto riguarda il nostro sito non ha la costruzione del loro sicché bisogna poi dopo fare una gestione diversa e questa è l'hamburg ci sono due tipologie gmt solo tempo è questo che è veramente spaziale questo è veramente bello anche la finitura della casa questo non l'avevo mai visto sì praticamente è un diver questo sì questo è un venti atmosfere venti atmosfere che bello qua in questo qua si vede tutto lo spirito tedesco della casa è proprio a me tra l'altro piace molto anche l'incisione riportata sul fondello anche se non si vede la meccanica però lo preferisco così una bella lavorazione è sempre preferibile a uno sterile vetro bello assai questo qua si la leggibilità è perfetta fammi un po' vedere eccolo qua ricorda un pochino volendo i zine con questo stile così teutonico e i tedeschi sono fatti così ragazzi inserto ghiere opaco cassa cos'è il pvd questa cassa qua si è un trattamento stainless steel sapphire crystal e pvd bello tutto opaco opacone opacone con il cilenturino in stile tecnico la ghiera bidirezionale come mai ghiera bidirezionale ragazzi ma allora questo che è una linea che loro abbinano comunque sia sempre al pilot si è sempre al concetto dell'aviazione sicché magari per fare delle rilevazioni a livello calcoli venti robe robe varie è sempre meglio mettere la bidirezionale abbiamo sbagliato a definire diver perché se lo guardiamo esattamente a ore 6 c'è scritto diciamo che è un orologio con caratteristiche tecniche superiori ma fa sempre parte del mondo pilot l'aeroplanino disegnato ore 6 quindi questo qua serve per prendere i tempi di navigazione in volo lo metti sulla sfera dei minuti e poi calcoli il tempo di volo si vede anche dalla corona che in stile cipolla in stile pilot eh sì un altro pilot questo però il diver ce l'hanno loro il diver ce l'hanno eccolo qui si chiama Mojev 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 questo è un 300 metri 39 mm di diametro diciamo che forse il periodo ora premia di più questa tipologia di orologi però ecco a loro sono un'azienda abbastanza completa sicché hanno anche questo tipo di prodotto in catalogo 300 metri fondello a vite chiuso con uno scorpione disegnato sul fondello in rilievo strano sta cosa eh uno scorpione ghiera questa volta unidirezionale questo sì che è un diver e poi c'è la classica sfera arancione come abbiamo visto in tanti altri modelli tipo i doxa o altri orologi diver nei quali la sfera dei minuti è quella importante da tenere in considerazione per i tempi di immersione e quindi è evidenziata con questo colore anche l'olipop di arancione è simpatica sì tra l'altro queste piccole rifiniture che nella versione che ho scelto io le trovate arancioni poi sono anche eh offerte in altri colori tipo l'azzurro eh se non sbaglio ci dovrebbe essere un giallo sicché ecco da catalogo poi potrete scegliere quello che preferite eh mi piace questo qua sì è un bello reloce cioè poi tra le altre cose uno da portare a casa no me lo lascia certo certo guardiamo quale scegliere pilot lo ho già recensito magari un diverino questo diverino sempre per rimanere nel mondo pilot questa volta aggiungiamo una funzione che è quella cronografica questo qua è il classico cronografo sì questo è il Kiel è il prodotto molto bello tipico ovviamente del mondo laco il classico cronografo pilot con la configurazione a tre contature tipica del 77 50 calendario dei date cioè calendario dei date impermeabilità quanto sarà dovrebbe essere un 100 metri un po' se non sbaglio 100 metri di impermeabilità 100 ma un cronografino 100 metri di impermeabilità un cronografino 100 metri di impermeabilità più che altro quello che stupisce perché come puoi sentire la consistenza dell'orologio è molto interessante realizzato molto bene anche nell'involucro e tutto ti invita a guardare il prezzo guardiamo il prezzo 2.390 un cronografo un cronografo 3.290 buona marca e buone rifiniture estetiche meccanica ovviamente non è una meccanica in house però come sia 2.390 cioè ormai abbiamo visto che gli orologi dentro soprattutto con la funzione cronografica dentro determinate range di spesa sono sempre più rari sì e ormai il prezzo il prezzo limite è 2.000 no? solito 2.000 è difficile trovare qualcosa sì difficile abbiamo visto da poco solo il Tissot però è anche un carica manuale il carica manuale si riesce ovviamente a produrlo con qualche spicciolo in meno guarda la corona di carica anche questa qua a cipolla diamante tipica degli orologi pilot questo qua è proprio un pilot di quelli che non ovviamente come tutti i cronografi un pochino più grande di dimensione purtroppo i calibri sono quelli ecco altra rarità oltre il prezzo sono le misure piccole per quanto riguardano i cronografi questo qua quante? quello è un 42 42? però ci sta come cronografo cronografo pilot 42 ci sta e con il lacco abbiamo finito sì poi giusto per evidenziare perché tanti di voi scusa questo qua è un GMT non lo mica? sì è lo stesso orologio di questo però con la funzione GMT ah facciamo vedere questo qua è GMT è sempre il pilot di prima con la ghiera bidirezionale simpaticamente con la sfera GMT in arancione quindi abbiamo anche questa complicazione su questo orioletto qua è acciaio PVD come quello di prima trattato PVD quanto costerebbe questo qua? 2490 mi costa più che il cronografo sì gli orologi con la funzione GMT proprio perché bisogna andare a creare una modifica sulle funzioni basiche poi spesso e volentieri raggiungono cifre a me devo dire la verità la funzione GMT non mi fa impazzire non è una funzione che amo particolarmente sono abituato che quando mi sposto all'estero reimposto il cellulare si imposta automaticamente di conseguenza mi imposto l'orologio sul nuovo orario anche perché capisco per chi si sposta spesso per chi deve lavorare voglia sempre tenere due orari sotto controllo però ecco è una funzione che oggi può essere comunque sia sostituita da tante modernità che abbiamo una volta che ce n'hai uno io ad esempio c'ho il Brightling GMT perché questo qua se l'avessero fatto solo tempo da 40 l'avrei preso solo tempo però una volta che ne hai uno due questo qua ora volevo far notare agli amici a casa delle particolarità tecniche che mi hanno allora intanto che c'è DIN 8330 che ora così su due piedi a memoria io non ricordo quale sia la specifica però vuol dire che rispecchia questa specifica qua poi i perni a vite che tengono il cinturino eccole qua invece di avere le spring bar normale ha delle vite e le vitine che tengono fissata la ghiera alla cassa eccolo qua in questo mi ricorda un pochino Zin che anche loro hanno queste vitine piazzate lì così praticamente il segmento alto di Laco è paragonabile ai migliori orologi tedeschi che ci sono in commercio adesso Tutima, Mulleglassulte, Zin beh poi ci sono quelli base con il mio 8 8000 che sono simpaticamente a disposizione di tutti ma la differenza si vede questo dipende un pochino da intanto la tasca di chi vuol comprare si ora metto di fianco uno all'altro quello da 340 euro no questo qua è quello costoso è questo il grigio o questo qui questi sono gli economici oh questo qua è economico e questo qua a sinistra è economico e a destra costoso guardiamo un pochino le differenze si no non lo puoi fare su quello lì perché uno è un automatico e uno è un carica manuale si che poi dopo alla fine non ti torna il paragone anche quelli economici non sono fatti male no alla fine rientrano in uno step di prezzo anzi dove addirittura tanti non riescono a stare si si 340 perché diciamo che a livello di competitività sul mercato sono più che validi va bene dai l'impermeabilità 5 atmosfere su quello economico poi cosa c'era di novità da fare allora sempre ovviamente per andare a fare degli inserimenti che avevo già preannunciato e che avevamo fatto nella puntata ovviamente degli ologi dimenticati andare a inserire tutti quei prodotti leggermente più economici allora intanto troviamo già nella famiglia Laco dei prodotti molto accessibili ovviamente grazie all'inserimento del Miota sempre per restare su movimenti Miota abbiamo ovviamente deciso di inserire un prodotto che è Zeppelin che è un prodotto esteticamente molto molto bello molto accattivante molto ben curato e ovviamente il risparmio si va a fare in quella che è la meccanica sempre montando un Miota base però il risultato finale è molto gradevole ovviamente non è un prodotto per i grandi appassionati di orologeria che hanno già delle collezioni molto evolute però per chi vuole approcciare al mondo dell'orologeria avendo un prodotto che sul polso dia un buon risultato senza spendere grandi cifre dopo ti invito anche a far vedere i prezzi di questi orologi secondo me questo marchio potrebbe essere veramente interessante 339 sì 339 io ho anche recensito uno Zeppelin sul mio canale tempo fa praticamente sono è un marchio che fa anche faceva gli Junckers che adesso hanno dismesso non li fanno più Zeppelin e Junckers anche loro sono tedeschi però naturalmente qua c'è il Made in Germany ma fino a un certo punto io non è che mi spingerei a dire che tutto fatto in Germania perché 339 euro sarà assemblato no sicuramente sarà assemblato sicuramente però sempre in questi prodotti qui quello che conta secondo me nel prodotto economico non è dove viene fatto l'orologio ma le componentistiche che monta allora se come meccanica ovviamente abbiamo un Miota che di pregio o non di pregio è comunque sia una meccanica iper sicura se vogliamo dire così perché ormai la montano tantissimi prodotti rodata che non dà problemi e ovviamente la qualità dell'imbolucro non occorre essere degli intenditori si vede dalla finitura dalla consistenza però ecco abbiamo visto che ora è il momento dello sportivo anche un bel prodotto questo l'ho mai visto sì con un quadrante stampa carbonio con impermeabilità diversa tutto braccialato ovviamente tutto acciaio stainless steel sicché ecco non sono i classici prodotti con l'ottone cromato o materiali che poi si sgretolano o perdono ovviamente i trattamenti no no questo qua si sente anche la consistenza dell'orologio toccandolo si sente che è un buon orologio di buona fattura ovviamente qualche spicciolo in più rispetto ai classiconi che abbiamo visto prima però ecco siamo sempre in un ambito contenuto a livello di prezzo 411 poi te gli fai uno sconticino sotto i 400 ma certo quello sempre sapete voi follower avete chiusura un canale preferenziale doppia chiusura con i forellini bracciale è bello spesso è bello sotto cosa c'è il classico Miota 8000 qua non si può andare oltre quello a certi livelli di prezzo non si può andare no allora devo dire la verità in un passato ormai lontano noi avevamo già trattato un marchio come questo ora non faccio nomi era un marchio che arrivava sempre dalla Germania aveva un nome molto accattivante a livello estetico era paragonabile a questo su qualcosa addirittura anche superiore no fermi tutti questo qua è il Miota 9000 questo qua non è il Miota 8000 è il Miota 9000 addirittura è di pregio questo qua si si 24 rubini questo qua 28800 alternanze orarie ottimo ancora meglio a 500 euro questo qua è regalato col Miota il bigliettino nero si si 411 411 euro col Miota 9000 tra l'altro questo prodotto qui viene fatto anche in diverse soluzioni sicché ecco a breve troverete anche questo sul nostro sito lo stiamo caricando in questi giorni lo compro te gli fai vedere qualsiasi cosa gli fai vedere mi la compro mi compra tutto Piero compra tutto scusami però è veramente concorrenziale ora mi viene in mente no ci sono anche tanti altri amici che usano il Miota 9000 i biologici costano almeno il doppio questo qua 411 boh sono rimasto un pochino sorpreso bravi eh sicché per finire il discorso avevamo già un altro marchio in negozio che ovviamente è molto gradevole a livello estetico però qual era il problema montava dei movimenti cinesi preassemblati che cosa voleva dire i preassemblati perché qualsiasi tipo di problema l'unica operazione che si poteva fare era il cambio meccanico tinsel no non lo dico il nome per correttezza e e praticamente non si potevano revisionare non si potevano smontare non si potevano mettere a posto praticamente diventavano degli orologi usa e getta pur essendo pur avendo un'estetica molto accattivante e molto bella ben fatta però purtroppo il motore era di bassissima qualità ora non mi hai messo la curiosità poi dopo tanto per dare una risposta a casa che me l'hanno chiesta in tantissimi l'altro marchio che andremo a inserire che la troveremo tra circa nel mio negozio circa una decina di giorni tra l'altro anche quello stanno caricando i miei operatori in questi giorni è Citizen oh Citizen così possiamo mettere le mani anche sui Citizen eh Mano Citizen è marchio ovviamente nel panorama dell'eurogeo è un marchio primario seppur economico Citizen credo che sia la marca che fa più orologi al mondo sì tra l'altro cosa che io amo tantissimo tutta la linea dei subacquei perché sono la vera e quasi unica alternativa nel mondo eh del diciamo delle immersioni eh l'unica vera alternativa al computer che serve ovviamente per regolare l'ossigeno e tutto eh solitamente sapete che viene portato un secondo orologio eh in immersione quello per eccellenza è Citizen anche perché poi ha tutte rispetta tutte le normative ISO ha la certificazione ISO sì che ecco poi dopo appena arriveranno ve le spiegheremo nel dettaglio e poi cosa ci abbiamo? io vedo laggiù poi ci abbiamo qualche marchio che invece è già presente nel mio negozio con qualche novità spostiamo così lavoriamo meglio eccoci qua pronti cosa è? allora abbiamo delle novità per quanto riguarda la colorazione di Northcane su Northcane è uscita tutta una serie di crono con delle grafiche con delle colorazioni nuove questo nello specifico è quello in tiratura e poi ci sarà un altro azzurro e un'altra colorazione in più che arriverà a breve in negozio per ora sono arrivati questi erano quelli che abbiamo a disposizione questo qua è una sorta di salmone cioè vanno di moda gli orologi color salmone al giorno d'oggi sì sì stanno uno di 300 limitata questa edizione limitata l'orologio è molto bello anche questo con una dimensione per essere un cronografo valida molto interessante una buona portabilità è un 40 mm calibro sellita no? sì con la configurazione quella del 77-53 hai tre contatori così corona vite quindi l'impermeabilità è quella di 100 metri che come ci ha abituato a Northcane c'è poco da... se non mi sbaglio ho già fatto anche la recensione dell'altro modello in tiratura sembra l'azzurro se non mi sbaglio insomma bello assai sto qua dai sì questo è molto bello altro prodotto ovviamente sempre del marchio Northcane lanciato proprio per l'apertura della stagione è un Wild One con movimento schelet che è quello che piace tanto a Davide ah sì a me questi qua mi fanno un pazzesco però questo modello qua di orologio mi piace quello con il quadrante normale da essere umano mi piace molto sì stiamo parlando sempre ovviamente ricordiamo cassa in Northc cassa in Northc che è una sorta di fibra di carbonio brevettata e poi c'ha questo praticamente si vede anche a occhio nudo il telaio è in Northc la parte nera poi c'è in gomma questa parte arancione che va a finire fino dentro fino dentro la cassa e poi c'è questo cilindro di titanio che contiene il movimento che è stagno a sé stante viene anche fissata la cassa con quattro viti lo vedete particolare l'ho fatto la recensione di questo orologio sì perché poi tutte queste parti qui sono tutte a sé i componenti montati insieme sì lo rendono poi un orologio anti-shock cioè che è possibile anche farci sport e farci attività un pochino più aggressive l'importante è non guardarlo per leggere l'ora perché no oggi leggere l'orario su un orologio è un dettaglio ma sì allora no le colorazioni anche qui saranno tre al momento è arrivata la verde e questa blu bravo sì no azzurro azzurro cosa c'abbiamo con gli ammettoni sì sempre ovviamente un aggiornamento di un prodotto che già esisteva è stato ovviamente sulla linea Expedition l'aggiunta dei cinturini nato qua abbiamo il modello da 37 e il modello da 41 sì ho preso due colorazioni a caso e per farvele vedere ne montati con ovviamente di quello che vedete in piccolo esiste anche il grande e viceversa il cinturino nato classico qua lo vediamo quello con i riporti in pelle per evitare che si sfibrino i fori del nato e questo è sempre un dettaglio di alta qualità ah beh sono bellini anche così si faccia un altro Hamilton un altro Hamilton questo invece è un tiratura limitata è una serie diciamo un'edizione speciale al Glacier realizzata su un Pilot è uscita ieri sta qua si è uscita ieri e noi la facciamo già vedere in anteprima è il classico Pilot di cui ho fatto la recensione anch'io ma con questa colorazione particolare blu blu esisteva però cambia un pochino ovviamente le sfere all'interno che hanno montato la sferettina rossa no non è rossa è metallica con i pezzettini rossi con i segmenti rossi si e poi ovviamente non esisteva con questa numerazione molto bianca contrasto così logico quello che rende tutto muoì molto fantastico è una scatolina speciale dove viene dato il doppio cinturino in pelle e il suo strumentino poi per poterlo cambiare ah bellino bellino più tutto il corredo la controscatola le istruzioni la storia a cui è legata l'orologio e via dicendosi che ecco mi ha detto ultimamente sia specializzata nelle confezioni perché il pariotto che mai hanno dato a mera c'è una confezione sì è logico che fa parte il corredo fa parte un pochino di tutto tutta l'esperienza cioè bravo sì l'acquisto di un orologio alla fine è un'esperienza e va goduta in tutti i suoi aspetti a volte vedo dei prodotti molto belli poi dopo le confezioni lo do al cliente il cliente mi guarda e dice cavolo ma come è brutta la scatola se che io mi rivolgo all'azienda al di là del valore proprio del prezzo di listino dell'orologio secondo me è sempre interessante dare una confezione adeguata perché che sia da 100 euro o da 10.000 10.000 euro l'orologio è un prodotto di lusso è un prodotto di lusso anche perché è un prodotto superfluo perché oggi se ne può fare a meno ma proprio perché rivive le sue funzioni primarie la sua storicità è giusto dargli anche nell'involucro che lo contiene un'immagine adeguata e poi io vedo qua un bellissimo tissù e poi un bellissimo tissù si star quello da 40 mm questo era quello da 40 te hai fatto la recensione se non mi sbaglio no no la prima volta che lo vedo in vita mia sì ora questa ovviamente è la colorazione un pochino più sgargiante questo color come si può definire è un blu è un blu degrade con la finitura del quadrante a striature verticali veramente bello sì ora è blu perché lo guardi levalo un po' dalla telecamera ora è verde mare verde mare sì allora non so se a casa poi dopo la diciamo la camera rispecchierà il colore ufficiale vi invito poi a andarla a vedere sul sito questo è un verde mare il colore secondo me è bellissimo esce dai classici bluettoni che siamo abituati a vedere sui diver in generale 40 mm sembra la carura che bella sottile di lato guarda qua che bella che è il calibro sarà sempre il solito powermatic no sì 40 mm con lo sgancio rapido del bracciale i forellini sulla clasp leggibilità perfetta data a ore 6 questo qua lo proviamo lo proviamo al pulso cosa dici Piero? che ti so ha fatto un bel lavoro questo dico oh facciamo la nostra bella prova come sta? beh bene per essere piccolino per il tuo polso sta bene secondo me non è piccolo 40 non può essere piccolo dai niente dai abbiamo scritto quelle simpatiche novità no allora non è una novità è un ripescaggio un ripescaggio sì un ripescaggio perché sapete che ci sono orologi che fanno tanto successo ne potrei citare migliaia finiscono veramente in maniera veloce sicché io poi dopo vado alla ricerca per chi ovviamente me l'ha richiesto no meglio meglio il nord l'overpole l'overpole bravo ultimo overpole recuperato dagli amici di rado non so dove sicuramente in qualche boutique al giro per il mondo me ne hanno recuperato uno allora mi hanno chiamato io ovviamente ho detto subito di sì perché questo orologio qui era fantastico carica manuale sì mi dispiace che non l'abbiano riproposto in qualche altra colorazione in qualche variante un'edizione limitata sì sono riuscito a recuperarne uno sicché ecco ve lo faccio vedere il primo che ovviamente se lo aggiudica vince perché non ce n'è più non so nemmeno se riesco a farlo vedere bene con gli riflessi è un orologio che mi avete chiesto veramente in tantissimi purtroppo non ce n'era più poi ogni tanto riescono perché ovviamente la sede è unica per tutto il mondo ogni tanto sanno che in qua e là ce n'è ancora un pezzo e li ho recuperati bravo bello Rado questo qua mi è sempre piaciuto anche leggero bravo io direi di andare a fare un giretto andare a vedere soprattutto anche gli orologi usati vedere cosa c'è di nuovo di simpatico sì quelli sai che io gli usati te li preparo sempre bravo vediamo oh adesso andiamo a vedere gli orologi in usati finalmente guarda il buon Giacomo che così qua si trovano anche altre marche perché io vedo già che c'è qualcosa che solitamente lui non ha sì no allora partiamo ovviamente questo qua è quello che ha preso Piero questo qua è quello che ha preso Piero ovviamente ne ho ripreso un altro questo è molto più recente di quello che ha preso Piero veramente questo pianologio che ha un anno di vita e lo vedo anche da cinturino sì cinturino poi tra l'altro è nuovo di pacca tra l'altro mi piace molto anche l'abbinamento con questa colorazione di cinturino ti do il permute al mio e prendo questo certo possiamo fare ma il tuo è il fondello chiuso sì è uguale sì sì anch'io con il fondello chiuso le preferisco questi tipi di orologi però poi dopo questo qua è praticamente era una scelta che si poteva fare soprattutto negli ultimi anni di averlo col fondello aperto o con il fondello chiuso bellino fortunatamente questo cliente aveva fatto la scelta del chiuso concordo a carica manuale ricorda tu Piero che te se non lo carichi l'orologio poi dopo abbiamo due bellissimi brightling oh super ocean sì super ocean heritage e super ocean normale sono ovviamente addirittura il super ocean è un'edizione abbastanza recente perché sono logiche sono usciti l'anno scorso io proverei intatti di cinturino molto belli molto ben tenuti sicché ecco sono logiche poi uno è uscito da me uno no tolgo un brightling per mettere un altro brightling hanno tutte le certificazioni del caso eh bello quale quello che stai indossando sì questo è un bello orologio inizialmente quando lo vedi non ero molto convinto proprio per la scelta del quadrante così su tre livelli però effettivamente è un bel risultato sì sta bene bianco e poi tutto bianco e nero così è proprio estivo con il cauccio simpaticamente ecco sì eh di listino quello lì viene molto di più viene 5200 euro 5.4 quindi qua c'è anche la possibilità di prenderlo praticamente seminuovo sì questo ovviamente nasce con la gomma volendo sapete che esiste anche braccialato è possibile acquistarci il bracciale poi Eberhard versione verde braccialata scafograf no scafograf lunetta ceramica vetro zaffero automatico sellita sv200 300 metri di impermeabilità questo viene anche con un doppio cinturino il doppio cinturino non è tenuto benissimo però il bracciale è integro quindi vuol dire che quella persona l'aveva indossato anche le maglie quel cinturino sì prevalentemente l'ha indossato cinturino a pelle il bracciale è quasi inutilizzato si vede ma è meglio così meglio che uno si ritrova il bracciale nuovo piuttosto che il aiuto per chi se lo deve comprare aiuto aiuto è anche comodo deve fare come potete vedere è il tuo polso che è ingrassato c'ho tutto ingrassato io sì sì vai in palestra continua poi ovviamente pezzettone ma lo so di chi è sì lo so anch'io pezzettone ovviamente blanc pen batiscaf nella versione titanio colorazione grey bello bellissimo loggio parla da solo carico di manifattura ragazzi di quelli fatti ancora come una volta dicevano è un loggio recente anche questo qui come è un mio amico ragazzi quello che ce l'avevo è un mio amico lo conosco è un amico tra l'altro molto meticoloso che ha avuto buon cura dell'orologio questo ovviamente è importante nella fase di ritiro lui pubblicava fotografie su fotografie lui faceva vedere l'orologio e poi l'ha dato indietro perché ne ha preso un altro capito ha preso lo zenith lui ha preso lo zenith sì poi orologino di un marchio che non ho che questi ovviamente che avete visto finora li ho tutti come concessione ufficiale questo non ce l'ho mi stuzzicava l'idea di averne uno tra le mani giusto per valutarlo questo tra l'altro è un'edizione in tiratura limitata già esaurito bello interessante l'orologio tra l'altro costecchiava anche per essere uno squale l'heritage dovrebbe essere l'heritage 1959 quello che ho recensito anche io c'è anche bracciale ho visto sì tra l'altro viene dotato anche di bracciale l'orologio è bello tenuto bene con tutto il kit il corredo lì e dopo il bracciale c'è anche bracciale ma te ti abbiamo già visto con un orologio a me sta bene tutti i orologi e quello là l'hai saltato quello laggiù quello l'ho lasciato per ultimo perché volevo spiegare una cosa quello lì è un Hamilton solitamente sono orologi che non ritiro per una questione di fascia prezzo ma questo mi ha incuriosito perché comunque sia alle ore del mondo che si girano con ovviamente la corona è un orologio che non produce più la Hamilton tra l'altro viene dotato del suo cinturino stampa cocco che c'è nella scatola però io gli ho già abbinato questo cinturino un pochino più in stile pilot perché gli volevo dare un pochino più di grinta l'orologio mi è veramente piaciuto per quello che ho deciso di ritirarlo se no solitamente non le ritiro praticamente i mesi qua si muovono con questa corona qua con questo qua si regola l'orario normalmente e il datario non è uno del mondo poi il mese è avanti da solo no c'è la lancettina il GMT la vedi lì dentro e poi c'è c'è anche la bug interna che ruota è un casino qua ci vuole perché si muovono i paesi le città si muovono però poi muovi anche la bug quindi puoi rimuovere di nuovo capito no non ho capito un cavolo va bene nemmeno io chi lo compra deve leggere bene il libretto di istruzioni da un ingegnere si deve fare il fatto perché poi anche GMT qua mi sembra insomma tutte e tre la particolarità è che tutte e tre le corone sono a vite perché solitamente una viene lasciata anche la bug interna si può girare senza vite qua sono tutte e tre quanto? quanto? 100 euro 100 euro ragazzi sei vergognoso no non lo dire cancelli i prezzi va bene dai ragazzi diciamo che qui abbiamo finito mi rimetto il mio bravo giusto giusto così perché l'altra volta le avevamo coperti a questo giro praticamente sono le angurie eccole lì le angurie sono gli oris acquist con la ghiera bianca inserto ghiera bianca potevamo farli vedere anche le novità questi questi potevamo farli vedere anche le novità non ci ho pensato ah questi qua li potevamo farli vedere anche bravo Piero bravo vedi perché ti dico sempre porta Piero bravo vieni qua dai qua niente ragazzi qua io non so più cosa fare con questi due non mi tocca che ragazzi siamo qua ci sono io chi c'è? ci sono io poi c'è il buon Piero Cocò e l'amico Giacomo siamo tutti qua e vi ringraziamo per essere arrivati fino qua speriamo che vi siano piaciuti gli orologi il video il presentatore e i valletti e vi ricordo gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su YouTube va e vi ringraziamo